e quindi noi andiamo a discutere questo reggitivo e io te lo farei quello che l'ho fatto anche cercheremo di lavorarci in mezzo così abbiamo presentato centavigli di raggiungere i reggamenti che sono sostanzialmente uguali sul tema in città c'è parte di raggiungere i reggamenti così tanto per farli dove ovviamente abbiamo racconto il lavoro, le istanze con tanti comitati, con tanti cittadini che ci collaborano con un attivamento che ci aiutano ad approfondire i tegni con i tanti nostri portaluci principali vogliamo contavere i reggamenti con i quali almeno vogliamo atteguare alcuni aspetti, migliorare gli aspetti di questo provvedimento che comunque ci vedono tutti per il motivo che l'ho espresso all'inizio come fare ad essere credibile a questo provvedimento se incontriamo le varie regge se incontriamo i fatti che non sono le regge io non so come si faccia a votare queste cose in aula come facciano i consigli di maggioranza a votare queste cose capisco anche i consigli di maggioranza che ne arriva un po' di giorni di barriaco che dico a votare il luogo prontamente e sicuro però sarebbe bello poter riflettere su alcune cose io ne ho proposto molte modifiche i video urbani non ci hanno parlato ne ho proposto di eliminare ad esempio le persone che stessi ciclabili che secondo me ce l'hanno detto le stesse associazioni di ciclisti non sono funzionali sono un po' sprechi non sono la classica integrazione anche pubblicitaria che vuol far padre che vuol far vedere che se non qualcosa ma poi dal punto di vista della sportistica puntiamo nel tutto siamo intervogliati ancora sulle corsie presenziali una volta sui cittadini eccetera siamo intervogliati insieme ai primi compagni portieri su alcune proposte di lì su camminilie e autobus proprio di queste cose io sono contento di buttarle in una assoluta designazione che arrivano a tutti i consiglieri si capisce però che gli altri consiglieri assorti e queste segnalazioni e poi ci sia un intervento solamente il movimento ci consente che le porta a ruina forse perché abbiamo il contatto diretto con i cittadini con le stature di mafia che ripeto se i cittadini non esseranno da cui danare sicuramente intervoglierebbe nella versione successiva vedendo le condizioni in cui si viaggia la metodina A e poi chi viaggia la metodina A è più fiduciato rispetto a chi viaggia la metodina B nell'altro manito in cui qualche parliamo dell'eroggiacchietto anche su questo momento che ha fatto trovare un'energia che non potremmo che in frittura si smantellasse quello che ormai è un patrimonio anche culturale della nostra città e tra l'altro potrebbe compiere cent'anni proprio nel 2016 come la fine del 2015 la rivoluzione è solo di 1916 perché la nostra proposta è di valorizzare un patrimonio è la città sul quale non si è mai investito è funzionante ma anche invece funzionare molto bene perché magari vedendo che un nuovo fuoco si tratta di farlo passare in maniera tangenziale per esempio in un'eroggiacchietto di capoline a maniera sarebbero una proposta sicuramente molto interessante sulla quale sulla quale è un'eroggiacchietto e infatti su questo è stata una commissione lavata con il presidente della commissione competente ci ho appunto che città sul quale abbiamo lavorato incessantemente molti ventissimi e davetti negli occhi presentati anche il concetto con i nostri consiglieri ma gli ex consiglieri del municipio di Ostia lì c'è un tema molto serio di mobilità affrontata che non riguarda solamente il loro marito ma anche il municipio delle distanze con la città di un municipio di Ostia ma i problemati sono tanti altri vicini anche qui c'è una loro capitale per fare con le realtà socialmente con le fortuna ci sono sul vostro territorio ma che sempre più spesso ascoltate che non si capisce perché la politica verrà queste opportunità che sono fondamentali anche per dare la possibilità alla nostra figura e al nostro lavoro ciò che 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 è perché per la metà è proposto il semplice rapporto ai dati che sono conosciuti mai da quasi tutti quindi poi restano poi un intervento anche il conto generico che ora risultavano i preferenziali preferenziali potenti perché quello che preferenziali si fa una striscia che basta sembra per forza un internazionale che si apprezzano un'area di scariconeci anche qui è importante riguardo le aree un tempo fa discutevo cosa fu una realtà come ad esempio rimessi a invece di svendere un po' di cemento potrebbero svolgere un'ottima funzione di per il carico di scarico merce il grosso potrebbe arrivare le aree delle aree più piccole ed ecco un quadri di diverso centri di risonenza di messia che potremmo fare però con questa distrazione è anche il servizio ed appunto il tema della mobilità chi vive in questa città di nazionalmente nosi ovunque si trova le difficoltà se si cede il mezzo privato se si cede il mezzo pubblico nella frequenza nella sicurezza nella pulizia di messi pubblici se si sceglie la principetta e di andare a piedi non ne parliamo loro questi penicoli in cui si devono affrontare quotidianamente quindi c'è un'amministrazione dell'amministrazione della marina che la sta assorta a distanza dei cittadini che ha sbagliato tra quali abbiamo trovato un riguardo ideo che non resta neanche interessante ma che cosa vogliono aspettare la città è un'amministra identica anzi se non c'è sia gravata in questo palazzo il senato mi assicuro le persone sono molto arrabbiate anche voi come l'alto grado il sindaco marino quindi presidente abbiamo un documento che di fatto sono delle linee guida molto generale abbiamo una maggioranza poco attenta a questi temi che non hanno può affrontare in maniera diretta il tema degli esporti un lavoro potrebbe essere efficiente attacca fino in fondo per diventare efficiente non poter aumentare in ora il turbo degli autisti ma significativamente loro le condizioni davano bene infatti avere accettito che un documento pubblico possa essere competito aumentare nel mezzo pubblico cosa che non è stata fatta quindi vorrei cambiare quindi vorrei cambiare di che come ci risulta abbiamo un documento ormai dentro e non rispetto alla realtà e forse come sottolineava l'assessore e l'illustrazione ha una valenza più politica che altro e vado la luca qui non va bene che in quest'aura si dovrebbero votare dei documenti che vanno nell'interesse dei cittadini dovrebbe pagare per fare l'oltre fare dei conti per i carriesi sia ancora più di ciò o meno che con il massimo rispetto dell'assessore però questa è un'aula dove si devono traccare la città non ritende la maggioranza di Dio sempre per smaccata al suo interno che è stato trasformato anche la valenza non dici più e allora si capisce che noi cosa dobbiamo fare qui tanto una giornata abbiamo messo più volte noi facciamo lo strumento interno poi abbiamo un po' di tempo per discutere con i ragionamenti quindi ovviamente sopravvivono poi si può avere i materiali di ragionamenti rimanenti poi si può vedere i problemi ovviamente la maggioranza del mondo non c'è un'altra la maggior parte dei consigli di maggioranza solamente in base alle indicazioni che hanno ricevuto e alla fine strette di mamma e champagne però in questo modo la città fuori una politica sempre chiusa nel suo recinto e nel suo palazzo più o meno lavorato quindi fanno rispettalizzati magari un individuo politico un po' e che c'erano un po' le volte alcuni schemi a un successo sempre maggiore così per esempio si parla di comunità ma si parla anche di tanti architetti perché spostarsi in piedi può che però svolgere il proprio lavoro la città è competitiva svolta un sistema di rispondo pubblico all'altezza del livello riporta quale imprenditore fa investire in una città dove vengono 60 i suoi fattori in cui vengono le sostanze 60 gli scederci hanno una concorrenza slegale partire di abusi i più meno ambulanti e quant'altro è una città dove prendere la metodolina non è in le spostanze a bere come ci vengono si rischia dove si fattura anche per parlare di mobilità privata per un nuovo tipo di mobilità elettrica in tante città d'Europa ad esempio ci sono di grosse agevolazioni perché qui sta parlando di elettrica la parola politica agevolazione non parla solamente di un'altra cosa ma ma non è che capirà di ricarica di mobilità elettrica una campagna anche mediale in tazzezio tutte cose che veramente non vengono e dico che messaggio diamo di assedizione di dodenzi avventuali di più un grande grado l'esplosione al traffico a diversi costi diversi costi e quant'altro e stiamo perdendo il passo anche con le altre ricche italiane quando è stato presentato il piano industriale diamo di commissione utilizzato il piano e il benchmark non è che mi dava tutti quindi mi fa tutto bene andiamo a vedere cosa è di Milano Milano con bike share in Milano solamente allora si riesce a fare bike share anche questa è una cosa che posso usare la manifestazione perché sappiamo che in quasi tutte le città di bike share che si finanzia con le azioni pubblicitarie non si capisce la Roma perché perché non si riesce a fare questo forse si capisce che ci sono degli altri interessi particolari dietro in questo settore ma nemmeno di voglio rimuovere le manifestazioni di bike share che ha un anche qui faccio esempio dell'autorista anche del cittadino romano che ha pari la circolatunità ma prendete un turista che arriva a passeggia per il centro e nel posto di cabello da il centro partigiano i motori poi vi rendete conto di un danno che state facendo vi rendete conto dei soldi della volontà che perde il rivolto in questa città dal punto di vista del turismo dal punto di vista dell'attattività per gli imprenditori perché è una città che costantemente lascia il messaggio che ognuno può fare il loro cuore ognuno può sentire il suo territorio di Romitana e il bar di Portafoglio da un'azzaio senza corredire rischio di essere erati nel seguito chiunque può fare il seguito sicuro del nostro il suo territorio di Romitana chiunque lo vede in qualsiasi cosa in qualsiasi tutto anche sulla scala del camion d'olio chiunque lo può apprezzare comunque l'amore lo vede lo vede l'amore l'amore Grazie per la visione!